Carolina, da Torino a Roma, a Piazza del Popolo, direi un cambio in una settimana decisamente forte. Sì, ci ho avuto anche Palermo in mezzo, tanto per non farsi mancare nulla. Sono molto felice di essere qui oggi, la comunità di Sant'Egidio per noi che viviamo qui a Roma è sempre stato un grande punto di riferimento, quindi sono felice che ci sia questa manifestazione che unisca una grande passione come la musica e anche la possibilità di dare una mano sempre e comunque. Poi tra l'altro sei riduce dall'Eurovision Song Contest, una manifestazione che ha dimostrato quello che può fare la musica, ha dimostrato anche il ruolo della musica. Sì, io sono convinta che possa essere ancora più visibile questa cosa perché Eurovision è davvero un grande messaggio che è quello della condivisione e spero che questo aspetto possa sempre venire più fuori e non prenderla solo come una manifestazione musicale, bellissima per carità, però comunque che ha davvero questo forte messaggio. Come il messaggio è quello di questa sera, tanto vediamo tanta condivisione, soprattutto tanti ragazzi giovani pronti a portare la propria musica al servizio di quella che è la pace. Beh sì, a partire dal contest che comunque ti dà un obiettivo, cioè quello di scrivere canzoni con dei temi che siano riferiti alla pace e alla condivisione e poi con tutti gli artisti che ci mettono la faccia e io spero che siano sempre di più. Beh io credo che negli anni comunque tu hai assistito anche un'evoluzione del mondo della musica, della musica in particolare nella musica italiana, quelli che sono per esempio i testi che sono cambiati molto e oggi si prestano davvero anche a portare dei temi decisamente importanti, anche con dei beat che comunque fanno riflettere. C'è stato un periodo buio lo possiamo dire da questo punto di vista, molto buio ma forse ci serviva per ritrovare poi la strada giusta per questo tipo di direzione sulle parole che sono sempre importanti, anche se è chiaro che l'italiano ha maggior ragione, cantare in italiano porta con sé un peso importante ma poi anche una gratificazione altrettanto importante nel momento in cui scrivi delle cose belle. Molto bene, io ti ringrazio e ti auguro buona serata. Grazie anche a voi. E a presto.